Salve salve a tutti cari amici e non e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91 Allora ragazzi oggi parleremo di un numero che mi ha completamente stravolto e che in effetti viste le immagini prima di acquistarlo sul sito Bonelli mi aspettavo un qualche cosa di così ma devo dire che questa lettura mi ha completamente folgorato è incredibile ragazzi Allora oggi parleremo del numero 394 di Nathan Never intitolato L'essenza dell'infinito con questa già bellissima copertina di Sergio Giardo guardate che spettacolo questa copertina insomma Giardo grande firma fa sempre ottime copertine ma ragazzi già questa qui dà il senso di quello che andremo a leggere. Allora ragazzi questa storia che l'ha scritta soggetto e sceneggiatura di Davide Ricamonti con dei disegni veramente di Mario Ianni che io oserei dire veramente eccellenti, eccelsi. Ragazzi questa storia è una storia che fa dell'oniricità dell'oniricità, il suo punto di forza. È veramente ragazzi un viaggio, questo fumetto mi ha completamente stravolto. È così, è questo che dovrebbero fare i fumetti secondo me in noi. Farci viaggiare letteralmente in altri mondi, no? Quando si dice che dobbiamo evadere. E qua ragazzi evadiamo completamente. Perché ragazzi qua siamo di fronte a una sceneggiatura che io ho veramente amato follemente ragazzi. Vedete quando lo dico che in Italia i bravi sceneggiatura e quando sono liberi di fare possono stupirci. Ragazzi questa storia è una storia completamente onirica in cui questa ragazza che si trova su questa astronave alla ricerca dell'infinito perché lei con la sua arte vuole raggiungere come dice qua sono stanca di riproduzione leziosa e di quello che tutti possono vedere e vogliono riuscire a trascindere la soggettività, cosa della quale abbiamo parlato di recente neanche a farla apposta, e realizzare un'opera oggettiva. Quindi insomma si tratta anche a parlare di oggettività, che ci ho fatto un video sulla classifica Bonelli, in tutto e per tutto perché l'arte ovviamente c'è la soggettività e l'arte dell'oggettività, anche qua viene confermato, insomma. Un'opera in grado di fornire risposte anziché limitarsi a suscitare domande. Qualcosa che nessun artista ha mai fatto prima. Ecco lei, questa tra l'altro Diane bellissima, bellissima ragazza, donzella, spettacolare. Tra l'altro poi devo dire che il Nathan muscolare, veramente molto anni 90 come piace a me, è sempre presente, quindi insomma, ragazzi, io la butto lì, ve lo dico veramente, l'aspetto grafico di questa storia è degna di Tredemur, grande, veramente, a me questa storia nello scorrere i disegni mi ha ricordato artisti dal calibro di Tredemur, di Jim Steranko ragazzi, a me sembra di leggere a volte Nick Fury addirittura, ragazzi, non voglio esagerare, ma voglio dire le cose come stanno ragazzi, qua siamo veramente di fronte a qualcosa di, ragazzi, in questa lettura non dovete cercare delle risposte, perché la base è questa qui, è questa ragazza che cerca l'infinito della sua arte, quindi ci sono dei discorsi sull'arte, appunto sul sogno, sul controsogno, su cosa è reale e cosa non è, sui robotte, sull'intelligenza artificiale. È veramente ragazzi un viaggio, quando tu lo leggi rimani un po' così, addirittura abbiamo dei riferimenti qua a Disneyani, ma ragazzi, ma veramente, questa è un'opera veramente, questa è un'opera d'arte, questa qua è un mezzo capolavoro, questa qua è un'opera degna di Tredemur, di Jim Steranko ragazzi, a me a volte mi sembrava di vedere Nick Fury, no? Veramente ragazzi, io neanche racconto la trama, perché la trama fondamentalmente è questa di base. Ragazzi, molti, guardate qua, ragazzi, ma diamoci conto di queste tavole, ragazzi, io veramente sono rimasto sbalordito, sballottato, perché a volte si fa difficoltà a capire effettivamente dove vuole andare la storia, ci sono dei continui risvolti, dei continui cambi di scenario, ed è questo il bello dei fumetti, lasciare sempre, dire ma cosa succede adesso, cosa sta accadendo, perché succede questo, e non poi con le super cazzole finale raccontare un qualche cosa che va bene così. Va bene così ragazzi, perché dopo ho letto, ho finito di leggere questo fumetto, ero contento perché dicevo, finalmente ho letto qualcosa che mi ha fatto riflettere, che mi ha fatto viaggiare, che mi ha fatto emozionare, poi ragazzi, i disegni raccompagnano in una maniera incredibile, ma guardate qua ragazzi, questi qua sono veramente disegni degni, a parte che ci sono chiari, chiari riferimenti anche all'arte di Kirby, cioè chiari riferimenti a cose di Kirby addirittura, cioè ragazzi veramente io sono rimasto sbalordito, ah ragazzi vi dico subito che molti potrebbero dire ah non l'ho capito, ragazzi ma chi se ne frega, all'interno di questo albo, Ricamonti lo dice proprio, molte volte, ma non mi ricordo dove, c'è proprio una frase che adesso non mi sono, scusate, segnato, ma all'interno dice proprio ragazzi, dice proprio, molte volte certe cose non bisogna per forza capirle, ma bisogna lasciarsi trasportare dalle emozioni e dare libertà all'artista di, a volte anche di farla fuori dal vaso, e qua ragazzi va veramente, poi c'è anche lo scontro con lei nel finale, con questo essere che vuole prendere il sopravvento su di lei, perché lei vuole raggiungere l'essenza dell'infinito tramite l'arte, ma questa entità, questo essere che non capiamo se è un mostro, se è una divinità, se è rappresentata dall'universo stesso, con Nathan che poi si sveglia, con Nathan che poi si trova all'interno di questo sogno, di questo incubo, è realtà, non è realtà, è fantascienza, è ambiguità, ragazzi è tutto, all'interno di questo fumetto c'è tutto quello che si deve amare nell'arte, ragazzi, io veramente sono rimasto sbalordito, complimenti da Enrico Monti per questa grandissima storia, sì, molti potranno, qualcuno potrà dire, ah non l'ho capita, ma ragazzi, ma lasciatevi trasportare le emozioni, e leggetela, io l'ho letto due volte, alcune cose nella seconda lettura, magari vi si ritorno, c'è anche un po' di memento avvolto in questo fumetto, c'è veramente degli omaggi al fumetto americano, alla fantascienza, io ci ho visto anche Solaris, addirittura, perché sono con lei, mi ricordano la storia, il film di Tarkovsky, con questi sogni, questo era Solaris, ma questo è un'opera d'arte, questi sono fumetti che dobbiamo venerare, ma io ragazzi rimango veramente sbalordito, questo è un mezzo capolavoro, questo è un fumetto da 8-8 e mezzo, ma che gli potremmo dire, graficamente è qualcosa di spettacolare, la sceneggiatura, il disegno accompagna in modo perfetto, la sceneggiatura che è onirica, ma il disegno, veramente gli anni sono grandi, cioè Mario e gli anni, io ti faccio i complimenti veramente, mi hai ricordato Treddemur e Jim Staranko, omaggi al fumetto americano, però ovviamente fatto all'italiano, veramente ragazzi, io sono rimasto sbalordito, perché è una storia che racconta e non racconta, che viaggia su quel filo dell'oniricità, lo fa in una maniera incredibile, all'interno ci sono i mostri, c'è l'arte, c'è una riflessione sull'arte, dove l'arte ci può portare l'essenza di cercare sempre, e questo è un discorso che fanno sia gli anni, sia i ricamonti, sono loro stessi, questa cosa di cercare sempre l'opera perfetta, ecco, l'opera perfetta in un fumetto, è questa la risposta, questa è una specie di 8 e mezzo del fumetto, è una scrittura alla 8 e mezzo, sono che tu vuoi cercare di fare un fumetto e porti le tue emozioni su un fumetto che devi fare e ci fai una riflessione, poi ragazzi, ripeto, io questi disegni li amo follemente ragazzi, ma veramente, si è passato da una storia che era super cazzola, quella prima a questa che è mezzo capolavoro ragazzi, ma poi mi piace proprio il compartimento grafico, mi piace proprio il ritmo dato, serrato, si passa da una cosa ad un'altra così, senza, a volte potresti dire senza senso, poi questo robot che fa questo doppio gioco, che poi neanche io ho capito effettivamente alcune cose, perché ragazzi, molte cose rimangono un po' spese, ma è quello il bello, lo stare a riflettere su un qualche cosa che non deve finire con il solito spiegone che poi molte volte spiega delle cose che manco poi riesci a spiegare bene, perché quando le certe sceneggiture, le lettere sono di Dandog e da Nevermo, ma anche in Marti in Misteri, a volte se in modo di una cosa poi ti spiegano e ti mandano ancora più in confusione, no, questa è una sceneggiatura che ti lascia tante cose, che fa tante riflessioni, ma guardate qua che disegni, ma poi lei, mi piace tantissimo come personaggio, lei che viene usata da questa entità, in realtà è lei che non la usa, in realtà sono entrambi che si usano, è andata a Nevermo, veramente ragazzi, ma guardate qua, queste sono tavole all'asteranco, queste sono omaggi alla pop culture, alla cultura, al disegno artistico pop, come faceva Jimmy Steranco ragazzi, eh ragazzi, prendete le tavole delle mure delle staranco, metterà fianco a queste, è quello eh, cioè ragazzi, certo quello è un altro livello, però devo dire che comunque, cioè veramente io sono rimasto sbalordito, cioè inizia così ragazzi, guardate come inizia, cioè, ma veramente ragazzi, ecco guardate, questo, eh, questo, questo, guardate, questo turbinio, questo portice enigmatico, con sotto, guardate qua ragazzi, ma veramente, ma io rimango veramente senza parole, questo è un mezzo caponavoro, e poi molti lo capiranno, molti ti danno, ah se capisce niente, non mi interessa ragazzi, a me questo momento mi ha dato tanti, mi ha dato tanti spunti di riflessione, ho pensato a di tutto e di più mentre lo leggevo, pagina dopo pagina, sono stato preso, perché mi ha fatto veramente viaggiare per tutti gli universi, per tutti gli universi possibili e immaginabili, dall'arte, alla fantascienza, ai mostri, all'amore, perché qui dentro c'è pure sclavi, qua dentro c'è pure lungo addio in certi momenti ragazzi, c'è pure lungo addio ragazzi, io, veramente, questo, questo, questa storia è un connubio di tutte quelle cose che io nel fumetto e nell'arte amo, questo è mezzo capolavoro, complimenti a Riga Monti, hai fatto, veramente io, complimenti, questi sono fumetti veramente eccezionali, ma veramente, gli anni che mi favano omaggio a Steranko, a Treddemur, a Kirby addirittura, con tutte queste cose muscolari, al fumetto anni 90, ma veramente ragazzi, applausi a scena aperta, applausi a scena aperta, e quando io, io sono il primo che dico, ma davanti a questo che devo dire? Che è un pezzo capolavoro, io vorrei, non dico capolavoro per non esagerare, ma la direzione è quella, è questo che a me piace ragazzi, veramente io, quando lo leggi rimani così, perché rimani sbambuato perché dici ho capito o no ho capito, ma chi se ne frega, chi se ne frega, a me non mi interessa capire, nello specifico, a me in questo caso mi piace quello che mi ha dato, e mi ha dato tanto, mi ha fatto veramente evadere, viaggiare, divertire, gasarmi, veramente ragazzi, questa è forse la migliore storia della never letta negli ultimi due anni, cioè da due anni adesso questa è quella più bella che io ho letto, insieme a storia di aurorre, me la metto al pari, ma forse ci metto solo addirittura questa, perché a me queste storie così, che mi fanno fare tutti questi viaggi, qualcosa di meraviglioso ragazzi, provatelo, è un'esperienza, questo fumetto è un'esperienza, che può non piacere, tante cose, ma sicuramente, sicuramente è una vera opera d'arte, perché chi mi omaggia, grandi artisti, facendo una loro storia, io qua dentro ci ho visto il cinema, fumetto, di tutto e di più, di tutto e di più, ci ho visto Sclavi, ci ho visto Steranko, ci ho visto Treddemurre, ci ho visto tutto quello che mi piace del fumetto, tutte le grandi cose che mi piacciono, in questo, questo può essere anche un omaggio, può essere tutto ragazzi, veramente sta a voi, io lo consiglio caldamente, pure se non lo capite, le leggi, anzi la cosa bella è che poi lo andate a rileggere, la cosa bella è che lo dovete rileggere, io quando lo riletto, dalla parte sono stato contento, ma dalla parte ho detto, no era meglio se non lo facevo perché volevo rimanere con quella cosa di non capire, perché poi se non lo rileggi alcune cose magari le puoi cambiare, però ragazzi, veramente, io sono rimasto sbalordito, i movimenti che fanno Dannever, guardate, ragazzi, veramente, ma io non ho altre parole se non che consigliarlo, perché veramente, un viaggio dentro un viaggio che omaggia tutto quello che a me piace nei fumetti, una storia onirica, io dito a voi d'otto e mezzo, e io ragazzi dito d'otto e mezzo, non mi serve che niente, eh ragazzi, io dico la verità, per me è d'otto e mezzo, i disegni sono da otto, che io devo dire, in un fumetto Bonelli con le griglie, mi fanno cose da recente, tutto così, eh, per me è da otto, a scena di recente pure è da otto, perché veramente, è tutto, cioè in cento pagine mi hai fatto queste cose, io, io non ho parole, complimenti, io veramente, basta, ragazzi, recuperatelo, poi mi potresti dire, ah, non l'ho capito, perché ragazzi, è un fumetto particolare, ma di certo all'interno c'è di tutto e di più. Chi poi, come a me, mastica l'arte, nel senso che gli piace il cinema, gli piace i fumetti, i romanzi, e qua c'è, c'è tanto da riflettere, quindi in cento pagine io ho letto una delle cose più belle lette stanno da Bonelli, cioè, a mani basse, quindi ragazzi, il mio voto è otto e mezzo, ha questo, ha questo mezzo capolavoro, e poi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti, io, io sto così, le emozioni me le lasciate, tutte queste cose le continuate a avere, quindi poi io, ognuno, a qualcuno gli farà schifo, a qualcuno lo capirà, a qualcuno lo tirerà, è un fumetto che può avere diverse chiavi di lettura, a me mi ha lasciato tutte queste cose, e ringrazio Ricamonti, perché con soli 5 euro mi ha fatto fare un viaggio che veramente, senza parole, otto e mezzo, otto e mezzo, questo è quello che penso.